Ben trovati dalla redazione aquilana del Tg di TV6, l'Aquila, in primo piano la cronaca giudiziaria clamoroso, la sentenza del processo d'appello Sanitopoli dove tra gli altri, lo ricorderete, era imputato l'ex governatore Ottaviano del Turco per un giro di mazzette nel mondo della sanità abruzzese tra cliniche pubbliche e cliniche private. Allora ascoltiamo nel servizio di apertura la sentenza. Quanto a del Turco, riqualificati i fatti di cui ai capi 26, 28, 33, 39 e 41, essenzio dell'articolo 319 quater, ed unificati gli stessi e quello di cui al capo 11, sotto il vincolo della continuazione, nel più grave reato di cui al capo 33, li determina una pena in anni 4 e mesi 2 di reclusione. Quattro anni e due mesi di reclusione per Ottaviano del Turco e questo è il punto nodale della sentenza Sanitopoli emessa dopo sei ore e mezza di Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello di L'Aquila. Dunque pena dimezzata per l'ex presidente della regione Abruzzo, la Corte presieduta da Luigi Catelli con giudice all'atere Luigi Cirillo e Armanda Servino, ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dal procuratore generale Ettore Picardi, che proprio per Del Turco aveva chiesto la condanna a sei anni e sei mesi di reclusione. In primo grado invece il collegio di Pescara aveva usato la mano pesante con l'ex presidente, con trascorsi da ministro delle finanze e da presidente della commissione antimafia, decidendo per una condanna a nove anni e sei mesi. È un dispositivo sul quale è impossibile esprimere un giudizio, se non che naturalmente noi non ci saremmo aspettato altro che un giudizio assolutorio complessivo e anche se noi dobbiamo prendere atto che su l'80% delle dazioni siamo stati assolti, ci viene difficile capire in che contesto avremmo invece avuto le dazioni per le quali veniamo in modo residuale condannati e come questo si concili con una credibilità complessiva della storia. Quindi la mia impressione è che è una sentenza che stia per scrivere una terza versione dei fatti. Noi avevamo una prima versione dei fatti quando ci siamo presentati in giudizio, eravamo dei concursori. Siamo usciti con una sentenza che raccontava che eravamo dei corruttori. Adesso si dice che non abbiamo preso soldi per i due terzi delle vicende che ci vengono contestate, tranne che per quattro quante sono. È una storia strana e quindi non possiamo che prendere tempo e cercare di analizzare e di capire. Mi chiedo come faccio a reggere un impianto complessivo di una sentenza che non ha mai distinto tra le dazioni. Quindi o sono avvenute queste dazioni e si indica per ottenere quali atti o non ci sono state le dazioni. Questa terza via intermedia è una terza versione di questa vicenda, il che la dice lunga su questa vicenda. Per quanto riguarda le altre condanne, tre anni di reclusione a Lamberto IV, due anni e un mese a Bernardo Mazzocca, che è anche interdetto dai pubblici uffici, un anno e otto mesi pena sospesa per Antonio Boschetti, tre anni a Luigi Conga, pena condonata e due anni ad Angelo Bucciarelli, così come Mazzocca, interdetto dai pubblici uffici. E ora spostiamoci al Comune dell'Aqui, l'assessamento di bilancio da 18 milioni di euro. Dopo la bufera con l'assessore De Santis, l'Italia dei Valori vota sì. 14 milioni di euro sono accantonati per i debiti del Comune dell'Aquila e per noi il punto di Antonella Calcagni. Approdato in prima commissione l'assessamento di bilancio che consiste in una manovra da 18 milioni di euro. 9 milioni saranno destinati al pagamento di debiti fuori bilancio, 5 ulteriori milioni sono stati accantonati per coprire eventuali minore entrate derivanti dal pagamento delle utenze dai condomini del progetto case per far fronte alle rate previste dalla transazione con Enel Energia. Sembra rientrare la crisi di maggioranza, l'IDV voterà la delibera. L'IDV come si pone rispetto a questa variazione? Voterà la delibera? Il bilancio fino a prima della crisi che ci ha coinvolto in prima persona è stato seguito e redatto dall'assessore De Santis, nostro segretario regionale. Le variazioni mi sembrano tutti atti dovuti per le questioni che sono intervenute successivamente per cui il nostro voto sarà sicuramente favorevole. C'è stata una riunione di maggioranza ieri, che cosa è emerso? È emersa la volontà da parte di tutti di rilanciare l'azione amministrativa in quest'ultimo anno e mezzo, dare impulso e seguire poche opere pubbliche che potranno essere sicuramente realizzate in questo scorcio di consigliatura. Per quanto riguarda invece l'assessore, adesso voi non avete un assessore in giunta, come si orienterà il partito? Noi abbiamo all'interno una discussione, come sempre succede in questi casi, c'è una divergenza di opinione per cui abbiamo chiesto alla maggioranza di avere rispetto per il nostro partito, di non incalzarci troppo ma di darci il tempo di valutare la situazione così come si è determinata e valutare l'opportunità, se ci sarà, di proporre un nuovo assessore. E ancora numeri, paradossi della ripresa, bene il manifatturiero, ma continua a calare l'occupazione. I dati sono stati snocciolati questa mattina dal Cresa Abruzzo, allora sentiamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Tronca. Paradossi delle timide riprese economiche. Il settore manufatturiero in Abruzzo nel terzo trimestre 2015 vede aumentare il fatturato del 6,7% e anche l'export e gli ordini interni. Eppure l'occupazione cala un po' in tutti i settori, ad esclusione della chimica farmaceutica e dei mezzi di trasporto, con 1700 posti, l'1,7%, che si sono persi. Questo scenario meritevole di riflessione è restituito dall'indagine congiunturale sulle imprese manufatturiere realizzato dal Cresa, condotto su un campione di 426 imprese. Lo studio conferma che in Abruzzo l'economia manufatturiero è trenata soprattutto nelle grandi imprese, oltre 250 addetti, principalmente operanti nel settore automotive e della farmaceutica, che alzano la media generale del fatturato e dell'export. Ma piccoli segnali di ripresa si vedono anche nelle piccole e medie imprese. Altro dato positivo, le nuove imprese nate, 570, segno di fiducia, che però non riguarda il settore artigianale, dove invece si registra un preoccupante calo. Resta da capire perché allora l'occupazione cala. Lo spiega il segretario generale Prospero Cocco. L'azienda, per far fronte alla crisi, hanno razionalizzato la produzione, investendo in automazione nuovi macchinari che non hanno più bisogno di operai in carne ed ossa. Ci sono segnali di ripresa evidenti, c'è un fatturato che cresce e una produzione che crescono rispettivamente del 5,7% e del 6,8%, però ovviamente il settore trenante è quello dell'automotive e dell'elettromeccanica. Però non disdegniamo segnali di ripresa anche dagli altri settori del Made in Italy, seppure in maniera meno forte, meno incisiva. Quali sono questi settori? I settori sono da tutto quello della pelletteria, della valvibrata e altri settori che si attestano sui prodotti del Made in Italy. Da produzione e fatturato però c'è un dato negativo per l'occupazione, almeno 1,7% registriamo nel terzo trimestre del 2015 e quindi c'è una sorta di antitesi fra i dati positivi di produzione e fatturato. Perché accade questo? Accade questo perché le industrie si stanno ristrutturando, da un punto di vista dimensionale si stanno attrezzando e quindi anche da un punto di vista del loro essere giuridico stanno rafforzandosi in società. E questo significa che automatismi che intervengono all'interno della grande industria e quindi anche produzioni che vengono in qualche maniera meccanizzate spurgono dalla produzione. Lavorano più le macchine che gli esseri umani. Esatto, spurgono dalla produzione gli esseri umani e quindi la mano d'opera. L'Aquila mostra un buon andamento per esempio sul fronte dei mercati internazionali, continua comunque ad essere una provincia ancora in grandi difficoltà e anche in questo caso probabilmente questo miglior andamento sui mercati internazionali dipende dalla presenza di poche imprese, dipende dalla presenza di alcune imprese come per esempio quelle del comparto chimico farmaceutico che in realtà lavorano più con l'estero. Rimane sempre il problema appunto che l'economia provinciale, come del resto quella regionale, è trascinata da poche grandi imprese, mentre il tessuto delle piccole soffre abbastanza. Gemellaggio l'Aquila 100, le tele del Guercino saranno esposte all'Aquila grazie all'associazione L'Aquila Siamo Noi. Allora sentiamo tutti i particolari. Una serie di iniziative rende omaggio al recente gemellaggio stretto fra l'Aquila e la città di Cento. Fra le più importanti una mostra sul Guercino prevista nel maggio del 2016. Nello stesso tempo alcune opere del Museo Nazionale d'Abruzzo saranno in mostra a Cento. Il gemellaggio è stato sottoscritto nell'agosto scorso durante la settimana della perdonanza. La nostra associazione è stata promotrice di questo gemellaggio tra il comune dell'Aquila e il comune di Cento. Due città che sono unite non soltanto dalla comune esperienza del terremoto ma da arte e cultura. Quindi dopo il gemellaggio dell'agosto scorso stiamo preparando questa serie di eventi, il concerto di domenica e la mostra del Guercino all'Aquila con in contemporanea una mostra delle opere d'arte che erano nel Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila a Cento. Quindi uno scambio culturale alla pari presumibilmente tra maggio e giugno del 2016. In questo momento assieme all'assessore Capri e alla dottoressa Arbace della sovrintendenza stiamo lavorando all'allocation per le due mostre. Quali opere andranno a Cento? Delle opere di arte moderna la scelta e la definizione sarà compito esclusivo della dottoressa Arbace. Vedere quali opere potranno essere materialmente spostate e anche in base all'allocation. L'allocation a Cento è già stata individuata. Si tratta del neorestaurato Palazzo del Governatore che è il palazzo storico di città che oltre alla sala consigliare ospiterà la loro Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Quindi è l'allocation ideale. Su di noi stiamo lavorando tra Palazzo Fibbioni e un'altra location perché le tele del Guercino sono di grandi dimensioni. Martedì 24 novembre ore 12 sarà sottoscritto un protocollo d'intesa tra Confindustria Abruzio ufficio scolastico regionale su alternanza scuola lavoro proprio nella sede di Confindustria. Il protocollo ha lo scopo di promuovere il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole abruzzesi attraverso la realizzazione di percorsi formativi definiti in alternanza scuola lavoro e introdotti dalla legge sulla buona scuola. E ora veniamo allo sport e in particolare alla serie C di basket. Nel turno infrasettimanale il nuovo basket Aquilano supera l'Ortona per 73 a 68. trascinato da un pubblico entusiasmante il Palangeli si è riempito anche di giovedì con tantissimi ragazzi adulti appassionati sugli spalti pur di non perdere la propria squadra vale a dire il nuovo basket Aquilano. La compagine Aquilana è riuscita a superare nella decima giornata del campionato di serie C l'intrepida Ortone in una gara difficile dall'inizio per i tanti continui infortuni di questo inizio stagione. Il finale è di 73 a 68. Bene, con questa notizia termina l'edizione del TG TV6 L'Aquila. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti. Grazie a tutti.